Brutal OX versus Brutal 0.5 versus Brutal 1 mm. Quale scegliere e qual è la migliore? Amici della community di Planets 21, finalmente oggi si conclude la saga delle Brutal. Abbiamo testato la versione OX e la versione 1 mm. La versione OX l'abbiamo testata su un telaio abbastanza veloce, Fibar, Samsono, Limited Edition 25 anni. Come si comporta? È un vero e proprio giocattolo. Da vicino al tavolo si ha un controllo estremo della pallina, si possono eseguire molto facilmente i ciocchi blocchi e le spinte di rovescio. Ovviamente dalla media lunga distanza, la gomma essendo la più lenta delle tre, si fa molta fatica se non avete una tecnica di gambe veramente ottima. Consigliata quindi per i neopiti, voglio disturbare il gioco di velocità, dalla sesta fino alla quarta categoria media. Un giocattolino! Una cosa che mi ha stupito, di questa gomma è che quando stavo a tavolo per fare muretto, anche se non indovinavo la giusta angolazione in cui mettevo la racchetta, la palla stava facilmente in campo e non scappava quasi mai lunga. Perciò per un livello medio-basso va benissimo, anche se non si ha una sensibilità incredibile di polso. Anche nelle risposte ai servizi si possono fare delle spinte insidiose prendendo la pallina piatta, e la pallina arriva all'avversario svolazzando e confondendolo perché non riesce a capire bene che tipo di effetto arriva. iscriviti al canale, che manina remida mi chiamava non mi chiamava Passiamo alla categoria 1 mm, che è dell'E3 la versione più veloce, si può utilizzare molto bene vicino al tavolo in fase di scambio, come se fosse un puntino corto. In fase di ciò blocking è avere un'ottima sensibilità, perché comunque non è facile gestirla essendo la gomma più veloce dell'E3. Dalla media e lunga distanza, ciò in cioppando, alla Joseyuk si ha veramente un ottimo effetto, arrivano dei taglioni veramente pesanti o anche delle palle lisce e non facili da capire. Delle E3 versioni è quella che considero la più difficile, però anche la più soddisfacente, dai giocatori della quarta categoria fino alla seconda categoria. Delle E3, quindi, per quanto mi riguarda, consiglierei la 1 mm nera. L'ottimo compromesso è la 0,5. Per i neofiti invece la OX, perché è un giocattolino molto facile da utilizzare per i giocatori che giocano a muretto vicino al tavolo.